Buonasera amici di Panorama Italy, bentornati in diretta amici, eccoci qua B&B Hotel nel cuore di Corso Vittoria Emanuele a Palermo Già Yamanna ancora in diretta per voi ragazzi, vediamo la buonanotte così, aspettiamo che scende Un saluto a tutti voi ragazzi collegati Inizia a scendere ragazzi, stanno iniziando a scendere tutti, ciao Patrizia, salutiamo tutti voi che vi siete collegando Lì c'è già Scellata da Achillemi Ciao Assunta, ciao Gilda dalla Colombia addirittura, un saluto Salutiamo Stefano Un saluto e un abbraccio a tutti voi ragazzi Eccolo lì ragazzi, sta per arrivare, sta per arrivare Ciao Riet, ragazzi vi raccomando condividete tutti, share, share, share Salutiamo tutti i gruppi collegati, ciao Lina, ciao Francesco, Francuzzo Salutiamo Vincenza Di Giovanni No, no ragazzi, era qui a cena, questo è uno degli hotel nel cuore del centro storico Ciao Stefano, ciao Jessica Ciao Valeri, ciao Stanno iniziando a scendere tutti tranquillamente Salutiamo anche a Sadur Un saluto ragazzi, un saluto da Palermo Eccolo, eccolo È già lì ragazzi, c'è Gianni Ciao Angela Adesso esce ragazzi, adesso esce e ci fa il saluto Ciao Aurie, un saluto Ciao Maria Bianco, salutiamo Maria Bianco Alcuni entrano anche per una foto ragazzi Salutiamo anche Milena Donzelli, ciao Milena Lì c'è Gianna Ragazzi siamo a due passi dal centro storico di Palermo Salutiamo Cristi Grande, grande Cristi Un saluto e un abbraccio a tutti voi Ciao Magda Ecco lì Gianna, adesso fra poco uscirà ragazzi, vi racconto condividete tutti Salutiamo anche Francesca Brancati, ciao Francesca Salutiamo Stefano Salutiamo Ilenia, ciao Ilenia Un abbraccio da Palermo a tutti Salutiamo anche Caterina Galati, ciao Caterina Salutiamo anche Daniela Guida, ciao Daniela Ragazzi condividete tutti in tutti i gruppi Ragazzi è stato qui a cena L'hotel è sempre lo stesso Salutiamo Antonio Amarmi e Fabiola Oliveri, ciao Fabiola Salutiamo Marina Longi Salutiamo Nunza Ricciardi Salutiamo Venera per le 100 stars Grazie Venera In diretta per tutti voi ragazzi Intanto sta per uscire dai Ecco qua ragazzi Ecco qua Ecco qui Gianne per tutti voi in diretta Una che stava togliendo la camicia ragazzi Salutiamo a tutti gli amici della pagina che si stanno collegando Ciao Sharon Ragazzi ci manteniamo non un po' a distanza Non si deve arrivare per forza qui Adesso lo salutiamo Ciao Gian Ci ha salutato anche Gian Un saluto a tutti voi ragazzi Gianna anche questa sera è stata molto disponibile Disponibile, gentile Ringraziamo a tutti gli amici della pagina Per che ci avete seguito ragazzi Grazie a tutti per averci seguito ragazzi Grazie a tutti per averci seguito Vi diamo la buonanotte così da Palermo Ragazzi grazie a tutti per averci seguito Grazie a tutti ragazzi Siamo in corso Vittoria Emanuele Praticamente siamo a due passi anche dal suo hotel E scendiamo un po' da quella parte ragazzi Tra pochissimo ovviamente sarà in hotel ragazzi Salutiamo Emanuela Andò Salutiamo Viaggio Salutiamo tutti voi Grazie grazie Vale Spero vi sia piaciuto il saluto di Gian Ci ha detto anche ciao questa volta Quindi non so se l'avete sentito Sì Auri ha detto anche ciao in diretta Sono davvero contento Che vi abbia salutato Io ho detto ciao Gian E lui ha risposto con un semplice ciao Però è stato davvero molto Molto come sempre Molto carino Salutiamo Viaggio Salutiamo Stefano Salutiamo Anita Salutiamo Stefano Salutiamo Auri È stato molto molto disponibile Ragazzi ovviamente qualcuno Magari si aspettava qualche foto in più Però dobbiamo dire che è stato molto molto disponibile Salutiamo Magda Ragazzi io mi sono stato a distanza Io ho solamente detto ciao Gian E lui mi ha risposto Ragazzi quindi io sono stato abbastanza Come sempre moderato Ringrazio tutti gli amici che Che ci seguono davvero Mi chiamano tutti i Tato Sì ragazzi Tato Lentini Per gli amici E insomma ragazzi Già ne sta andando in hotel Come vedete La macchina è lì in mezzo Ovviamente Ha tornato da lì anche da altri fans Ormai andiamo a chiudere in hotel Nonostante diciamo siamo Siamo distanti Sì Dani scende in direzione hotel Dico ovviamente lui arriverà prima Quindi non penso No no ragazzi Già l'abbiamo beccato per stasera Vi faccio vedere l'hotel Per gli amici Che volevano sapere dove si trovava Dove si trovasse L'altro hotel Dove è sceso adesso Scendiamo da quella parte Dai vi faccio vedere l'hotel Allora Vale per condividere Devi chiudere la pubblicità Ragazzi c'è scritto il tasto C'è il tasto condividi Basta che ci cliccate Ci date E ci E si vede Sì si è sentito il ciao Infatti infatti Dani Infatti ve l'ho detto Ci ha salutato Sono davvero convinto L'ho sentito anch'io Quindi Grazie Vale per la condivisione Attraversiamo ragazzi Attraversiamo E scendiamo In direzione hotel Sì ragazzi Andiamo in hotel A questo punto Ovviamente l'auto è già arrivata Quindi non riusciremo Credo a riprenderlo Però insomma Passiamo da qui Dai vediamo la situazione in hotel Vediamo se riesce a fare qualche foto Con altri fans Magari che sono lì Salutiamo la mia amica Cinzia Comella Salutiamo a Paolo Zalotti E insomma ragazzi Spero vi sia piaciuto Questa buonanotte da Palermo In zona Vucciria si fa festa Un sacco di gente stasera Nonostante siamo inizio settimana La Vucciria è tutta sold out Salutiamo la mia amica Lucrezia Si è sentito Infatti infatti Sono molto contento ragazzi Salutiamo RosiRosi Noi sempre con la nostra discrezione Ragazzi Con l'educazione si arriva sempre avanti Ricordatevelo Quindi non c'è bisogno di buttarsi addosso alla gente Si può essere anche moderati E riuscire a fare un buon lavoro Salutiamo Elisa Restivo Salutiamo Stefano Salutiamo Caterina Rosi Marilu E insomma ragazzi Vi ho fatto un primo piano Stupendo penso per voi Grazie Rosi Grazie a voi Scendiamo in direzione hotel Ragazzi siamo quasi arrivati Quindi vediamo Vediamo come è la situazione in hotel Nel frattempo ragazzi Ovviamente condividete Perché tutti gli amici E le amiche Soprattutto della pagina Magari vogliono vedere Gian E insomma In qualche modo Questa sera ci siamo riusciti anche Salutiamo Inchierrita Salutiamo Alessia E la ZTL ragazzi Fuori praticamente dal perimetro Di Piazza Marina Quindi al Forio Italico Potete passeggiare Grazie Mary Grazie Intanto salutiamo a tutti gli amici Che si stanno collegando Vediamo se intanto Qualche amica lì giù È riuscita a salutare Gian Davvero davvero Molto molto Disponibile Anche stasera Nonostante la giornata Lavorativa Credo che abbia avuto Anche abbastanza impegnativa Perché comunque è stato Per gran parte Della giornata A fare le riprese Salutiamo Liliana Lilli Salutiamo Maria Bianco Ragazzi come vi diceva appunto L'hotel è lì sotto E lui era praticamente lì in fondo A destra Quindi la strada Era tutto dritto Quindi non si è spostato Neanche troppo dall'hotel Vediamo in hotel Come è la situazione Salutiamo Tania Grazie 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 Domenica Grazie Francesca Un abbraccio Ragazzi spero vi sia piaciuto Insomma Dedichiamo questa immagine A tutte le fan di Giamman Nel mondo Che siete tantissime Sicuramente Vediamo se le amiche qui Sono riuscite a fargli un saluto Può essere che Non so Penso che già sia salito Però Vediamo Vediamo Salutiamo Caterina Messina Salutiamo Anna Volpe Da Giuliana Se lo becchiamo due volte Ragazzi Siamo però Troppo forti Però sarebbe davvero difficile Salutiamo Maria Bianco E Cinzia Grazie Salutiamo Marli De Menenses Ah forse sono lì Ragazzi Sono i hotelli Che stanno facendo le foto Vediamo se ci arriviamo Però sta rientrando Facciamo un salto Ragazzi Facciamo una corsetta Dai Andiamo a salutare anche qua Dai Andiamo a salutare Così Vediamo se ci arriviamo Ragazzi Non lo so Salutiamo Valentina San Marco Anche qui Fans Abbiamo fatto No Non ce l'abbiamo fatta Credo Salutiamo Cinzia È arrivata adesso Ragazzi Anche qui Casino in hotel È entrata adesso Ragazzi Ovviamente non ci siamo arrivati Ma l'abbiamo fatta a corsa Se la facevamo a corsa Se la facevamo a corsa Ci arrivavamo Questo è l'hotel Ovviamente La porta È già chiusa Non siamo arrivati Per qualche momento Insomma L'intanto c'è anche Nasta Quello sembra Roberta Ciao Maria Ciao Stefano Anche qui tantissimi fans Che l'aspettavano Ragazzi Vi ringrazio a tutti Davvero Per averci seguito Ringraziamo anche Stefana Fiorellina Per le 100 stelle Ragazzi vi ricordo Che se vi arriva la notifica Per inviare 100 stars Di cliccarci Ci date un contributo Questa è la zona dell'hotel E purtroppo Era già entrato Ninuzzo Sono ancora Ragazzi Ancora potremmo fare Altre 4 dirette oggi Sono sempre carico Ragazzi Questa è la zona Dei chiavettieri Che la faccio vedere Chiavettieri di Palermo Live Grazie Giuseppe Ragazzi Diciamo che se facevamo Un po' di Se la facevamo davvero A corsa Ragazzi Riuscivamo a prenderla Anche qui A farci una bella Inquadratura Comunque ragazzi Vi ringrazio a tutti Davvero per averci seguito Anche in questa diretta Spero vi sia piaciuta Gian c'ha anche Salutata in diretta Penso che è meglio di così Non potevamo chiudere la giornata Io ringrazio Ognuno di voi Che ci ha seguito Grazie a tutti Per le condivisioni Ringraziamo anche Tutti gli amici Che hanno inviato L'Estel E qui c'è la Maserati Sempre qui Sotto l'hotel E niente ragazzi Da quanto siamo in diretta Non lo so Però insomma Penso di aver fatto Una buona diretta Anche stasera Io ringrazio a tutte le fans Ringraziamo Carlo La Liliana Ovviamente ringraziamo A Giuse Anthony Paolo Valentina Nelli Insomma tutti i gruppi Il gruppo Gian Prince Yaman Insomma tutti gli altri Gruppi collegati Domani non si sa ancora Ragazzi domani mattina Faremo anche degli interventi Non vi preoccupate Sempre su Panoramaitre Vi raccomando Lasciate un like Ci vediamo alla prossima Grazie a tutti Per averci seguito Da Palermo E dal Maserati Ragazzi è tutto Bellissima macchina Spettacolo Hotel Palazzo Sitano E Corso Vittoria Emanuele Ragazzi Spettacolo Faccio vedere pure Corso Vittoria Emanuele Di nuovo Corso Vittoria Emanuele Vabbè in questo tratto Ovviamente sono tutti Per adesso sull'hotel Però Questo è il Corso Vittoria Emanuele Che conduce anche in cattedrale Ragazzi una buonanotte Da Palermo Grazie a tutti Per essere intervenuti A domani Grazie a tutti Alla prossima Ciao Ninuzzo Un abbraccio a te A tutti gli amici di Brooklyn Buona cena a voi Alla prossima ragazzi Un bacio E un abbraccio Da Palermo